Ci troviamo nel nuovo presidio sanitario situato nella zona terrieste, esattamente Piazza Istria 2 nel secondo distretto, con il dottor Fabio D'Andrea, medico di medicina generale, presidente della cooperativa Roma Med. Presidente, è stata presa questa nuova iniziativa, in accordo con la ASL RMA, di realizzare in questa struttura un nuovo servizio sanitario vicino al cittadino, che comprende da una parte le unità di cura primarie e dall'altra un ambulatorio di continuità di medicina generale. Di che si tratta esattamente? Diciamo che la cooperativa e la ASL di Comune Accord hanno cercato di trovare una soluzione diversificata per dare una maggior continuità assistenziale al cittadino. Questo nell'ottica di un cambiamento anche dell'attività della medicina generale ci ha portato a identificare una struttura che sia uno studio medico di medicina generale aperto sul territorio, per il momento in forma sperimentale su un territorio ristretto, dalle 8 di mattina alle 20 di sera tutti i giorni, sabato e domenica festivi e prefestivi compresi. Quindi dare una maggior garanzia di presenza della medicina generale sul territorio che facesse praticamente una struttura cuscinetto per il pronto soccorso, quindi una copertura di quei codici bianchi che in uno studio medico di medicina generale possono essere affrontati. Quindi un maggior servizio al cittadino che sa che ha un'unica struttura di riferimento sul territorio di medicina generale a quale può accedere gratuitamente nel momento in cui abbia una necessità di consulto, di assistenza o di valutazione di prima istanza, cosa che magari fino adesso soprattutto di sabato e domenica si poteva rivolgere solo telefonicamente per una visita domiciliare con la continuità assistenziale, cioè la guardia medica, oppure andare direttamente al pronto soccorso. È un'opportunità in più per dare anche modo al paziente di avere un contatto continuo anche con la medicina di famiglia. È importante anche perché all'interno di questa struttura nei giorni feriali si applica il concetto di queste forme di aggregazione territoriali di UCP, ovvero sia di medici di medicina generale che sono presenti per i propri pazienti sul territorio, mentre poi nei giorni sabato e di sabato e domenica festivi e pre-festivi è aperto a tutta la cittadinanza del secondo e terzo distretto, quindi secondo e terzo municipio della ASL. Quindi abbiamo due servizi, da una parte l'UCP, che significa unità di curie primarie, e questo tipo di attività che va da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, è destinato soltanto ai pazienti dei medici che hanno aderito al progetto. Il cui elenco noi lo troviamo o nella locandina? No, noi lo troviamo nella locandina che distribuiamo con l'ASL su tutto il territorio, negli studi medici di medicina generale. E in questi giorni, dal lunedì al venerdì, che tipo di prestazioni sono erogate? Dalle 8 alle 20, nell'unità di curie primarie, quindi in questa unica unità di curie primarie su tutto il territorio, che è la prima volta che viene coinvolti più di 50 medici di famiglia, garanti del servizio e anche per i propri pazienti, viene dato un servizio tipico che viene svolto in uno studio medico di medicina generale, quindi un primo intervento, la classica funzione di carekeeper della medicina di famiglia, quindi di primo accesso a un servizio sanitario che poi viene esteso a seconda della descrizione del medico di famiglia. Quindi eroga le stesse prestazioni che dà il medico di famiglia, soltanto che in questa unica struttura è possibile che il cittadino dei pazienti che sono iscritti con i medici partecipanti possa immediatamente avere risposta. Diciamo che andiamo a coprire quel buco di presenza che magari lo studio medico singolo della mia famiglia non copre, essendo limitato d'orario, noi andiamo ad allargare il servizio sapendo che il cittadino trova innanzitutto un servizio di informazioni che lo riguardano perché c'è un servizio di rete, ovvero sia tutti i dati del paziente sono nella struttura dell'ambulatorio di medicina generale, perché c'è un servizio di rete di comunicazione tra i dati sensibili degli studi medici di famiglia e l'ambulatorio centrale che fornisce il servizio delle 8 alle 20. E poi comunque si ha la presenza costante anche per una necessità anche più banale di una ricetta perché serve e possono andare dallo studio. Mentre invece il sabato e domenica, prefestivi e festivi, qui è attivo un nuovo servizio che è l'ambulatorio di continuità. Sì, è un ambulatorio di continuità di medicina generale, ovvero sia un servizio di prestazioni sanitarie erogate da un medico di medicina generale e anche con la presenza di un infermiere, di personale infermieristico, che sono prestazioni mediche di base o prestazioni infermieristiche che possono essere di continuità a quello che si svolge nel territorio durante i giorni feriali, ma anche diciamo di consulto o di cuscinetto per accessi a codici bianchi di pronto soccorso che non abbiano particolari criteri d'urgenza. Quindi è un filtro, anziché dedicarsi in ospedale per i codici bianchi possono venire qui. Possono venire qui. Quindi quali prestazioni sono garantite? Allora, le prestazioni garantite sono quelle comunque sia che sono anche evidenziate nel foglietto illustrativo che verrà distribuito. Sono prestazioni per urgenza soggettiva o situazioni che possono essere valutate dal medico di famiglia o come in qualsiasi altro studio del medico di famiglia. Medicazioni di ferite superficiali, rimozione dei punti suture, delle freboclisi, la prosecuzione di una terapia iniettiva che magari è avvenuta durante la settimana e può proseguire nel periodo o il monitoraggio delle PTNR e della TAO. Poi ovviamente terapie iniettive, lavaggi vescicali, controlli della pressione, controlli delle estomie, medicazioni, bandagini, vaccinazioni integrate. Cioè tutto un servizio che fino adesso il cittadino si doveva rivolgere necessariamente al pronto soccorso, non avendo nessun tipo di figlio. Quindi oggi il cittadino, solo in questi giorni però, festivi, prefestivi, sabato e domenica, queste tipi di prestazioni le trova qui a livello gratuito? A livello gratuito per tutti i pazienti del territorio del secondo e terzo distretto, senza distinzione ovviamente. Noi abbiamo detto che questa esperienza è sperimentale per sei mesi. Sperimentale, certo. Ma è sperimentale sia l'UCP sia la continuità o solo la continuità? È il sistema dell'ambulatorio sperimentale in assoluto. Vediamo se ha un senso, ha una risposta, se effettivamente risponde a delle esigenze reali del cittadino e poi si vedrà come attuarlo o se migliorare il servizio. Direttore, nell'ottica della politica aziendale di creare una sanità vicina al cittadino, oggi viene inaugurato un nuovo presidio di continuità con i medici di medicina generale. Di che si tratta? Dunque, si tratta che una cooperativa di circa 50 medici di medicina generale del secondo e terzo distritto hanno fatto questa proposta all'azienda, cioè dare continuità di assistenza per il sabato e la domenica dalle 8 alle 20 in un territorio che praticamente non ha un punto di continuità assistenziale. Quindi mi sembrava una iniziativa meritoria, l'Ase l'ha condivisa e l'ha favorita e quindi noi abbiamo che circa 55 mila assistiti da questi medici possono retarsi in qualunque giorno presso questa struttura ed avere un'integrazione alla loro assistenza con la medicina di base. Inoltre, tutti i cittadini del secondo e terzo municipio, per gli orari che abbiamo detto del sabato e la domenica, possono avere qua un riferimento per poter far fronte ai codici bianchi, è un'alternativa al pronto soccorso, abbiamo detto che spesso i pronti soccorso lavorano in modo inappropriato con codici bianchi quando ci sono delle urgenze invece di codici rossi o gialli e quindi questo significa un filtro e soprattutto dare la tranquillità al cittadino che vicino casa ha comunque un medico che lo può ascoltare nel caso che abbia qualche preoccupazione circa la sua salute. Quindi diciamo questo polo viene un po' di integrali e quelli già esistenti? Sì, noi avevamo già nel primo municipio, in particolare a Reggina Margherita e a Via Canova due presidi di continuità, adesso anche il secondo e il terzo municipio hanno il loro servizio di continuità e il quarto a Via Lampedusa sarà aperto tra breve, quindi noi abbiamo coperto tutti e quattro i distretti con un servizio alternativo al pronto soccorso. Faremo un bilancio, già comunque abbiamo migliaia di cittadini che hanno usufruito di questo servizio e sono tutti cittadini che non sono andati al pronto soccorso e hanno ricevuto una cura più appropriata in queste sedi. In queste sedi ci stiamo discutendo con i medici proprio per creare un filtro di primo livello valido anche con strumentazioni tipo elettrocardiogrammi con la telemedicina, un ecografo, uno spirometro, per cui puoi già avere un primo livello efficace di filtro verso il pronto soccorso.